Riaccoci cari amici, pronti a parlare dei vincitori della grande fatelo VIP. Vincitori al plurale assolutamente no, parliamo della vincitrice al singolare, ovvero Nikita Pelison, che attenzione è appena tornata dall'isola dei famosi, sapete che è stata lì per qualche giorno. La vincitrice del GF VIP edizione numero 7 è stata così ospite per una notte, con il solo scopo di sostenere la sua amica naufraga Helen Prestes, e in realtà si sapeva che sarebbe rimasta non molto in Honduras. Ma arrivato il momento dei saluti, la modella ora esiliata sull'isola di Sant'Elena non è per niente riuscita a trattenere le lacrime, quindi più che commossa. È stato un momento molto emozionante in cui ha anche speso delle belle parole per l'amica con cui aveva partecipato anche al programma Pechino Express. Voglio ringraziare questa vita, negli ultimi due anni. Mi ha portato Nikita, una persona che mi guarda negli occhi e mi conosce. Sa la parte più bella di me. Non mi ha mai mollato nonostante i miei momenti difficili, come questo. Mi ha dato tanta forza, ha detto tra le lacrime Elena Prestes parlando della sua amica, che come detto ha vissuto sulla seconda spiaggia con gli eliminati provvisori, ovvero lei e Gian Maria Sainato. È tornata a casa Nikita Pelizzon dopo questa breve ma intensa esperienza all'isola dei famosi 2023 e nelle ultime ore ha avuto modo di rispondere ad alcune domande dei fan su Instagram. Una in particolare riguardava proprio il naufrago oraco inquilino della sua amica. A me siete piaciuti tu e Gian, che sta per Gian Maria Sainato. E lei, ti siamo piaciuti io e Gian Maria? Davvero? E cosa hai visto di bello? Io non so cosa avete visto, non so cosa hanno montato. Perché non è tipo. Dall'altra parte! Quindi fammi capire, cosa si è visto di me e lui, ha chiesto la ex geffina per poi proseguire il discorso e dare vita così a un gossip. Comunque mi piace un sacco, anima. È molto dolce, molto dolce quel ragazzo. Poi c'ha questo sorriso che non lo so, sembra che gli hanno messo la dentiera di quando sarà anziano in bocca. Veramente, sorride e si illumina tutta la spiaggia. Le parole di Nikita Pelizzon sul naufrago. Cari amici, per questo video è tutto, vi ringrazio per la visione, mi raccomando lasciate il vostro segno qui sotto, un bel like e se non siete iscritti iscrivetevi al canale oppure seguite la pagina, è tutto gratis. Vi ricordo che in questa pagina si parlerà di gossip tv, spettacolo, politica, sport, curiosità e tanto altro. Detto questo vi saluto, mi raccomando vi aspetto al prossimo video, ciao, un saluto da Max.